Non segna per la seconda partita consecutiva, ma torna a muovere il proprio totalizzatore dopo l'inopinata sconfitta interna contro il Potenza. Il Cerniola si prende un punto di prestigio sul campo del quotato Catania, finisce 0-0 al massimino, o Fantini solidi e compatti per tutta la durata del match, o Fantini anche pericolosi in avanti nel corso della ripresa. Atto centrale di un triplo impegno agonistico in otto giorni del campionato di Serie C per i Gelo Blu, inevitabile. Un minimo di turnover per Giuseppe Raffaele. Belasquez fa l'esordio dal primo minuto nei tre di difesa davanti a Saracco insieme a Bisentini e Gonnelli. Pacchetto arretrato, ancora Orfano di Ligi, Martinelli comincia e finisce la partita in panchina. Tascone, Capitan Capomaggio e Paolucci in mezzo al campo. Cocce russo esterni, Fagioli scelto in avanti insieme a Salvemini, Pugliesi in attacco senza Iallo e soprattutto Cuppone out anche Bianchini a centrocampo a guidare l'attacco dei siciliani. Invece c'è l'ex molto atteso da Andrea. Meglio nel primo tempo gli Etnei a metà frazione, Raimo sbaglia tutto da buona posizione, Quaini sui sviluppi dell'azione non c'entra il bersaglio con questa rasogliata dalla distanza. La replica del Cernuola in chiusura di tempo non è granché Mancino di Capomaggio che non fa nemmeno il soledico ad Adamunis. Dalla parte opposta Imenes Castillo propone un'idea interessante per Verna, è entrato al posto di Sturaro, nulla di fatto, duplice fischio intervallo, ripresa caratterizzata da un Cernuola sicuramente più propositivo. Ruggero gettato nella mischia al posto di Fagioli ha coraggio ma non incide con il Mancino. Proteste, Pugliesi poco dopo, contatto in aria tra Tascone ed Anastasio, il direttore di gara non fa una grinza. Angolo per il Catania, Di Gennaro non incorna come avrebbe voluto, brevido per i padroni di casa dopo l'ora di gioco. Cegli e Castellini non si intendono, Adamunis non la blocca ma Coccia non ne approfitta. Il Cernuola è vivo, destro di Salvemini, nulla di fatto. Conclusione poco dopo dalla distanza di Rosso, l'estremo del Catania mostra discreti riflessi. Succede poco o nulla invece nel segmento conclusivo di partita, compresi i 4 minuti di recupero 0-0 in ghiaccio sino al triplice fischio al Massimilò. Diventano così 11 punti del Cernuola, 2 in più dei Catanesi e domenica a completamento del Tretico in 8 giorni arriva la Casertà dal Montenisi, fischio di inizio previsto alle ore 18.30.